Si pone di sicuro a domanda la gestione dell'acqua e chi ci vuole fare per risparmiare meglio 98 miliardi di metri di gubi che parlano di reticipitazione e dunque a neve, a grandina o a piozza ogni anno in Corsica a metà entra in terra e 94 miliardi che fermano solo appena di più di 2% sono destinati a consumazione umana l'agricoltura e l'acqua bella 60 milioni di metri di gubi sono messi da conto l'idroelettricità quindi non gestisce l'acqua qui ci sono pareti piani, pareti misure il sistema di gestione e l'acconciamento dell'acqua ha doppiato nel 2021 dall'Assemblea di Gorsica e il piano dell'acqua nostra di 2050 conoscete Belgio che sta facendo il nostro compagno Xavier Luciani che l'ha proposto 500 milioni d'euro ci sono investiti nel piano qui non ha doppiato una politica dell'acqua che pensa a prodotti maio o più tughi in tutta la Gorsica a lunga o più corta o più 500 milioni di metri e il prezzo della costruzione è di un piccolo materiale allora basta che Antonorsini non gestisce l'acqua mica per parlare di la neve io mi ricordo di 40 anni fa quando ero più giovane e con l'amore o Blatto d'Also a Biaghià c'era sempre tre mesi di neve una settimana fa c'era un mese metro un mese 50 milioni era ora appena la neve ma non so sicuro perché a da bene o Gallo a l'Ista perché non c'è più stagione tutto il mondo è igien che in francese non c'è più di 6 anni ma c'è un mese ma c'è un mese e per l'affare del problema dell'acqua e la di una francese oggi due posizioni s'opposano e non non è magari non d'accord non c'è per l'amore non c'è per l'amore non c'è che si può dire risparmiare è meglio economisare o stoccare io penso che ci dovrebbero le due ma dovrebbe andare a economisare perché oggi è sempre quando discutiamo di un marido e che vogliono comprare una gasa una vittura due vittura e ciò lì noi non c'è un mese e domanda l'isole oggi ho anche qui non c'è acqua di tiglione e perché io ho scoperto qualcosa quest'anno quest'anno quest'anno, 2021 non è mica avvalato ho detto sempre pioerà sempre 7 a 8 miliardi quest'anno non so che sei e per me è stato un miracolo un miracolo oggi l'acqua è sulla sparmiale